Anche quest'anno la Sagra di Torano non si terrà una scelta di prudenza, visto il momento ancora pienamente dentro la crisi pandemica. Questa scelta è stata condivisa, come è stata accolta dalla cittadinanza e dagli operatori? Diciamo che è una scelta necessitata per le caratteristiche della Sagra di Torano, una sagra che si svolge nel centro storico, un centro storico comunque molto contenuto, vie piccole, strette, nelle quali confluiscono tantissime persone, migliaia di persone. Sicché assicurare, garantire tutti i protocolli, rispettare come giusto che sia le regole che tuttavia cambiano in maniera abbastanza repentina, questa situazione ci ha in qualche modo portato a prenderci un ulteriore anno sabbatico. Ma non è però un anno di totale inerzia, anzi deve essere proprio un anno di opportunità, di riflessione e anche se si vuole di ripensamento di questa tipologia di manifestazione. Oggi il turista, il fruitore è molto più attento alla qualità dei cibi, al modo in cui si presentano. Ecco, tutti questi elementi devono essere necessariamente valorizzati. Come potrebbe cambiare la sagra? Che tipo di futuro può avere questa manifestazione così antica, longeva e anche amata? Valorizzare il centro storico ritornando a quello che era l'antico, il momento originario di questa manifestazione, ovviamente proiettati sul moderno in un'era post-Covid che tutti ci auguriamo possa essere il prima possibile, insomma ci possiamo trovare il prima possibile in questa era e valorizzando il territorio, i produttori locali, metterli insieme, fare rete.